ciao questo è solito il solito video che faccio il mercoledì che sono riuscito a finirmi di leggere adesso il numero che ho preso stamattina di topolino che siamo arrivati al 3591 che ho visto che ci sono sei trame in questo volume in questo volume qua che sono tutte corte in questo volume essendo cn6 sono tutte corti come come tran trame che l'ultima è la solita pagina 162 del commissario indaga chi si chiama l'accomplice che la storia di marco bosco i disegni le chili di valeo a parte colore sempre di valentina mauri che è la solita magari trama di solamente una di una facciata all'ultima all'ultima pagina dopo le altre cinque le altre cinque trame la prima che si trovava ea topolino e il ritorno degli h della chiappa fantasmi che la storia di luca barbieri i disegni e le chine di roberto via nella parte del colore di questo pur tra abdel jalil che marini come disegni mario visto che ci potevano maria che sai come il livello maria di trame questo questo volume ho visto che maria ci potevano maria anche anche stare anche le tutte le trame che si trovavano in questo volume dopo nella parte dei disegni maria c'era quello che marei che marei mi piace mi era piaciuto un attimino di più ma rene la parte colore certi meno quello come come al solito dopo in questa prima c'era un attimino come si dice questi colori marei come si dice un attimino marei un po più accesi che quando capitano quando capita questi a parte dei colori marei fatta questa maniera da parte mia le preferisco dopo come si dice la seconda che si trova che si trovava e a i cimeli raccontano che c'è zio paperone lo spacca spacca spazzolo e lo spazzolone che la storia di marco bosco i disegni e le chine a parte del colore di andrea maccarini che come al solito quando morai quando c'è marei il zio paperone dentro marei le trame marei mi mi piacciono sempre quando c'è zio paperone dentro che sicuramente chi marei mi segue sempre marei in questi video di topolino sa magari che come ho detto nell'altro video che quando c'è zio paperone dentro a me piacciono sempre se trame qua poi nella terza trama a pagina a pagina 71 e a mini prete a poter fashion academy la scelta che terzo il quarto la terza trama la terza e quarta trama sono sono due episodi che essendo ne sommette due le ammessi tutti e due in questa in questo volume proprio di mini prete a poter fashion academy che si chiama sempre la scelta che in tutte e due i come si dice queste due trame la sto la storia di sergio badi badino disegni di giulia l'omorno la parte delle chine di roberto zanotta e colore di galetano gabriele d'aprile in tutte e due le trame che erano solamente questi due episodi terzo e quarto che magari come trame marei ci potevano ma magari anche stare in questi due episodi dopo come stavo dicendo essendo marei due quelle trame fatte a episodi essendone solamente marei due le ammessi tutte e due in questo in questo volume qua dopo nella quinta come si dice come quinta trama ea la grande e mitologia papera ma per on a tini o sei doni degli dei che la storia di luca barbieri disegni e kine di nico piccone e la parte del colore di castagna che anche in questa parte marei di dei disegni ma che in questo ultimo mi ha un attimino piaciuta un attimino marei di più una parte anche questa qua della quinta trama meno marei piaciuti dopo ho visto che hanno già messo come al solito marei la parte marei dei lettori che hanno pubblicato morale le le foto della gente che ha mandato proprio come si dice la loro foto in redazione di magari erano foto di ancora che l'hanno chiamate ancora un po vacanze delle foto di gente marei che ancora in vacanza che hanno pubblicato male le loro foto che lo fanno spesso questo angolo del lettore e hanno messo magari anche come al solito la cover dei doppolino di settimana prossima il 3592 che esce il mercato mercoledì prossimo che dovrebbe essere questa dopo hanno messo come hanno fatto hanno provato a fare ultimamente la parte come si dice di come morai di disegnare questi personaggi che si trovano ma in questi fuori in questi volumi di topolino questa volta che è capitato marei ha proprio appoluto di come disegnare marei voluto coi vari marei step per disegnarlo che in questo volume la cover di questo volume la la disegnata francesco di polito che mettono si preco come al solito scherz all'interno della cover è solito morai sketch e sempre come al solito in prima pagina lo scherz di silvia ziche e niente che quello che potevo mai dire su questo volume l'ho già detta che sicuramente magari con con topolino ci vediamo sicuramente mercoledì prossimo che che in questo volume c'erano queste sei trame che vi ho detto che essendo cene sei erano un attimino un po più erano più corti come trame che io come come ho detto marina e in vecchi video mai sempre di topolino ma io magari preferisco che preferisco che da parte mia poche ne mettono meno possono di metterne mai se ne mettono anche quelle quattro quelle un attimino ma è un po più lunghe però questi volumi con sei trame veloci corte ma che ci può magari anche stare dopo questa è solamente ma è una mia ma è opinione e niente che quello come si dice che quello che poterò mai dire su questo topolino di questa settimana l'ho già detta che come ho detto prima con topolino a massimo ci vediamo ci vediamo sicuramente settimana prossima che sicuramente prima di settimana prossima magari pubbliche sicuramente maria altri video sul mio canale e niente quello che potevo dire su questo volume l'ho già detta massimo ci vediamo sicuramente più avanti con i miei soliti video che porto sul mio canale e niente per adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao